vuoi darmi una cosa un feedback va bene non lo faccio vedere va bene devo aprire super natan 22 x 3 già tre mesi questi giorni non sono stato molto in live ma quando riesco mi rendi la giornata felice il mio feedback il nome già abbinato alla coroncina ora ringrazio raga datemi un attimo che marty è live devo di devo darle il feedback su sta roba ma non so aspetta ma te lo sei perché tu sei rosa un regalo come rega ma in che senso regalo mo ma in che senso visto che oggi c'è chi come te lo volevo regalare ma sei stupida il nuovo il 2 rosa ma veramente io te l'ho preso io ma sei fuori che vuoi ma cosa fa ma rega ma cosa fa martina rega ma mi ha appena regalato il mi ha regalato il il c pro super light 2 il nuovo mouse picchia raga sono quasi 200 euro di mouse regalo dobbiamo unboxare subito e poi lo andiamo a provare oggi con lei in game quindi cambiamo da il il g pro normale super light 1 al 2 lo andiamo a boxare insieme lo andiamo a boxare insieme lo andiamo a boxare insieme dai lo sapeva pure che che lo volevo rosa ma che mamma mia lo andiamo ad boxare subito raga andiamo ad boxare subito per forza lo sai che questo a forza di usarlo da così opaco diventerà così lucido perché le mie mani fanno lisciare la roba vediamo il cosino sotto guarda che bello perfetto è perfetto verso destra un po' quindi va bene si va bene si perfetto lo posso spellicolare è tua ma è tutto tuo il suono della pellicola ok guarda che bello bianco tu ce l'hai bianco questo l'hanno fatto invece io ce l'ho scuro tu ce l'hai scuro questo cos'è ah era quello della confezione aspetta eh il cavetto e dovrebbero esserci anche esatto ci sono anche i grip quindi se il mouse dovesse scivolare attacco i grip ma è meglio senza esatto lo sto usando senza io quindi sono tranquilla quanto è bello raga mamma mia minchia se sono alta raga beh in game minchia il level il level è andato da dio più o meno perché stai mangiando no no raga 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 ho paura raga ho paura non c'ho niente mi sta uno dietro tutti questi danni tre urlare vabbene dai picconami posso dai dai ma fammi rubare a me qualcosa però dai cosa hai preso cosa hai preso dimmelo ah per me ah dici dato che con l'altro non ho mira magari con quello faccio qualcosa effettivamente no 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 arriva gente ragazze no sono cattivissimi dove sta a marchi oh ma è una ragazze questi qua sono io non toccare la mia vado tutto dove fa vinco 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 adesso sta già con me no c'è lui c'è lui c'è lui c'è lui c'è lui mi serve un aiuto io bravissima io non ho mazzila per coprire questo problema no chi è che mi viene addosso con la granata però addosso questa è l'aria giorgia aiutami arrivo non ho mazze zia dov'è non vuol venire dietro io non ho zero mazze proprio ok ok una bill ma basta musica è billy eh l'ho distrutto io fatto 170 di po ma dove sta oh ah no raga dove dovremmo dove sta ma stai dall'altro no no uno è andato di qua raga a mo guarda dai è sempre tu che ma no poverino però ti rensi qua tutto shiftato dalla cassa poverino ok adesso inizio come ho fatto mi salò 22 one hit cost fa così 22-33 ottimo l'altro qua dietro doppia 22 distrutto one hit one hit madonna l'mk comunque dai razzi controllo aspetta vado a prendermi due mazze però eccolo qua eccolo vai bella 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 perché ho fatto tipo un giro con l'assalto proprio eh ho sbagliato di su oddio one hit preso mi dai la chiave sì tieni vado a prendere ah no mi sa che l'ucido sto bocco aia sento gente che non vorrei sentire gli altri sono su saliamo martina sta su no martina è giù io sto salendo anche io voglio salire sono qua da me io sono su ilo sono qua da me allora ok fai mi le box ma no io sono sopra un albero ok questo è un problema tecnico 63 ha la skin di star wars qua mamma mia già patevamo nel mio box morta no martina sono io oh è caduto uno coraggio cerchiamo qualcuno andiamo andiamo va che qua mi sembri un po' dormiente signorina chi? tu sei un po' dormiente perché? perché sei un po' dormiente why? eh ancora perché sei un po' dormiente no non sono dormiente non sei dormiente beccati sto pistolone guarda non avvicinati troppo guarda la faccia e le mani no? ti sembra più felice o incazzata incazzata quella lei la quando dice quella lei la quando dice oggi il compito mi fa un po' male poca misa ovvio ah ho una persona ah sono prendendo una bandiera infatti ti dico bene oh 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 Alex questa qua te la ricordi sai per quanto zio? per l'eternità fratellino disinstalla nooo qua è il miss ma quella è un bot ma io me la stavo prendendo vabbè zio ciao eh arrivederci e grazie ahia ha provato a sparare? da dove? dalla sopra mi sa qua sono a collinezza nord est uno col cecchino però craccato? ok ottimo mi è servita allora la mia cecchinata con quel no che bello furibondo furioso oh 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 vabbè vabbè c'è qua vabbè c'è mamma mia il mouse a sto punto c'è non faccio delle cecchinate paurose c'è questo qua ecco ok 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 qua c'è un piccolo problema di fondo ed è doversi fare semplicemente la slurp io l'abbiamo un team no non dirmelo allora niente è nota è anch'io full team qua vengo da te sono qua da me il problema è che non ho moving ragazzi ripartiamo da essa raga non dovevo farlo ce l'ho nel box fatto uno fatto 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 sono troppo forte zio sono illegale è giunto il momento di prendere del moving se no qua rischiamo 34 34 di nuovo no questo si fa oh madonna stavo morendo da quello con la spada non erano non erano programmati francamente 60 giorni ok non mi devi sparare quelle cacchio di cose quando ci sono io nel box perché ti giuro esplodo è sopra è sopra 25 25 25 25 25 è beccato quello gioco ok uno l'ho ucciso hanno rotto l'ex che l'hape giocano così proprio armi per stupidi è l'ultimo è l'ultimo dov'è ah è lì era lì era fra vieni qua ma ha crackato lui eh 24 ma ragazzi questo qua mi ha tirato un colpo assurdo in faccia mamma mia che schifo è veramente 44 crack in volo neanche un hit ho ficcato neanche un hit ragazzi neanche un hit 25 white a posto e direi che si può fare la nostra passecciatina col sorriso che dire che dire il mouse presta bene a sto punto il mouse è perfetto c'è solidi solidissima col nuovo mouse mamma mia si vola 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 Grazie.